Ciao a tutti voi da Rosi, ancora un appuntamento con la nostra vetrina dell'auto, molto interessante per voi in compagnia di Marchiselli Auto e quindi Luca Marchiselli, a te. Ciao, ben ritrovati, Marchiselli Auto, Garlasco, Via Leonardo da Vinci 8. Vi invito sempre a guardare il nostro sito dove giornalmente vengono caricate i nostri nuovi arrivi e dove potete trovare anche la nuova sezione noleggio dove potete vedere le nostre offerte per noleggi auto, furgoni e minibus, 7 e 9 posti. Passo subito a presentarvi le macchine di questa sera. Parto subito forte, Audi A4, nuovo modello Avant 2000 turbodiesel 150 CV S-Tronic allestimento Sport. La macchina è un giugno 2016, ha percorso 11.000 km, è molto accessoriata, navigatore, luci diurne LED, cerchi da 17, Bluetooth, sensori parcheggio, portellone automatico. Il prezzo è 35.700 euro, IVA compresa. Una bellissima utilitaria di casa Smart, Smart 4-4, Black Passion, la macchina è un cambio manuale, è un'aziendale del 2015, la macchina ha 11.500 km, oltre a questa che vedete ne abbiamo anche un altro colore bianco modello Passion che proponiamo a 9.700 euro. Una bellissima Abarth, turismo, cambio manuale bicolore con un interno bellissimo rosso, ha un cambio manuale, è un agosto 2014 con 44.000 km, la macchina oltre accessori di serie ha anche lo scarico turismo, la proponiamo a 16.900 euro. Sempre in casa Fiat, la nuova Fiat 500 1.200 lounge, è un bellissimo colore, è un cambio automatico. La macchina a 12.000 km, è un Euro 6, è un febbraio 2016, la proponiamo a 12.400 euro. L'allestimento lounge, aree condizionata, cerchi in lega, tetto in cristallo, radio, touchscreen, Bluetooth. Passiamo ora a una Lancia Y, una Lancia Y Twin Air, 900 di cilindrata, anche lei con il cambio automatico. La macchina in allestimento Gold, quindi cerchi in lega, radio, Bluetooth, aree condizionata, è del 2016, ha 11.000 km, la proponiamo a 13.400 euro. Passiamo ora a 500 L, nel modello trekking, è motorizzata 1.600 multijet da 120 cavalli, ne abbiamo diverse, blu col tetto bianco, gialla col tetto bianco e bianca col tetto nero. Sono tutte aziendali del 2016, pochissimi chilometri, 11.000-12.000, oltre accessori di serie, cerchi da 17, climatizzatore automatico, sensori parcheggio posteriore, le macchine hanno anche il navigatore, le proponiamo a 18.350 euro. Un bellissimo fuoristrada, Jeep Cherokee, 2.000 multijet 170 cavalli, cambio automatico 9 rapporti, 4 ruote motrici. La macchina è un novembre 2014, ha percorso solo 34.000 km, ha veramente su qualsiasi accessorio. Cerchi in lega da 18, fare lo xeno, navigatore cartografico, tetto apribile panoramico, interni in pelle, sedili elettrici riscaldati, ventilati, portellone elettrico, telecamera di retromarcia. La proponiamo a 29.900 euro, solo 33.000 km. Passiamo alla macchina molto molto interessante, una ibrida, Lexus, la nuova NX300, nell'allestimento top di gamma Luxury. La macchina è un maggio 2016, ha percorso solo 9.000 km. L'allestimento Luxury comprende veramente anche qua ogni cosa, navigatore, cambio automatico, sensori del parcheggio, fare lo xeno, sedili elettrici, in pelle, riscaldati, ventilati, veramente ogni cosa. La macchina la proponiamo a 44.000 euro, maggio 2016. Un altro fuoristrada, Jeep Grand Cherokee, è un 3.000 diesel, 241 cavalli, anche questo nell'allestimento top di gamma Overland. La macchina è un giugno 2013 con solo 39.000 km. L'allestimento Overland, anche lui, navigatore, cambio automatico, fare lo xeno, sensori parcheggio, cerchi da 20 pollici, tetto apribile panoramico. La macchina la proponiamo a 30.900 euro, veramente veramente molto bella. Questa è la sorella gialla, sempre 500L, trekking, 1.600 multijet, 120 cavalli, 18.350 euro. Un altro fuoristrada, GLK, Mercedes 250, CDI, 4MATIC, allestimento premium, proprietario unico del 2011, la macchina ha percorso 95.000 chilometri, parliamo sempre di un top di gamma, premium, navigatore, command, fare lo xeno, cerchi da 20, sensori parcheggio. La macchina la proponiamo a 23.800 euro, è un unico proprietario. Volkswagen Golf, le abbiamo vicine, ne abbiamo una bianca e la possibilità di averne anche un argento. Sono macchine aziendali del 2016 con pochissimi chilometri, 20 o 21.000. La motorizzazione è un 1.6 turbodiesel da 110 cavalli euro 6, cambio manuale. Sono macchine molto ben equipaggiate, sensori parcheggio, navigatore bluetooth, climatizzatore automatico, fare i fendinebbi e volante sportivo multifunzionale in pelle. Le proponiamo a 19.400 euro, IVA compresa, Golf 7, 1.6 turbodiesel, comfort line, 5 porte. Passiamo ora a una mini countryman, una One D 90 cavalli, ideale per neopatentati, è cambio manuale a 20.000 chilometri, è un giugno 2015, anche là è molto accessoriata, navigatore cartografico, bluetooth, sensori parcheggio posteriori, cerchi lega da 17 pollici, fare i fendinebbia. La proponiamo a 20.900 euro, la macchina è un giugno 2015 con 20.000 chilometri. Una bellissima chilometro zero di casa Citroen, Citroen C4 Cactus, è una 1.6 diesel da 100 cavalli, ha il cambio automatico, l'allestimento è la Shine, quindi modello più bello, navigatore, sensore parcheggio, cerchi lega, luci diurni a led. La proponiamo chilometri zero novembre 2015 con cambio automatico a 15.900 euro. Passiamo ora, ritorniamo ora a Fiat. Parliamo sempre di 500L, in questo caso abbiamo disponibilità di due 500L N1, N1 vuol dire autocarro quattro posti, completamente deducibile, la macchina è con motorizzazione 1.6 120 cavalli, gli accessori a recondizionata, ABS, airbag, radio touch con il bluetooth, sono macchine chilometri zero del dicembre 2016. Ripeto, autocarro N1, IVA completamente deducibile, le proponiamo a 15.500 euro IVA compresa la nera e a 15.860 euro IVA compresa la rossa con tetto bianco. Sempre Fiat, sempre 500L, in questo caso è una macchina con pochissimi chilometri, seminuova, non ha ancora mille chilometri. La macchina è un settembre 2016, è una 1.4 T-Jet 120 cavalli, impianto GPL. La macchina è una pop star con il bicolore, aria condizionata, cerchi lega, sensori parcheggio. La proponiamo a 17.300 euro. Ripeto, impianto GPL. Non poteva mancare, Renault Captur, 1.5 diesel, 110 cavalli nell'allestimento top energy. La macchina è aziendale, è una marzo 2016, a 27.000 chilometri. Anche lei è veramente super accessoriata, bicolore, cerchi da 17, navigatore cartografico, telecamera, bluetooth. La proponiamo a 17.500 euro. Ancora un bellissimo autocarro N1, questa volta parliamo di Mercedes Sitan, 109 CDI friendly, autocarro quattro posti, completamente deducibile. La macchina è un 2013, ha 74.000 chilometri. La proponiamo a 13.200 euro, IVA compresa. Anno 2013, 1.5 diesel. Non poteva mancare una bellissima station. Skoda Octavia, Vagon Executive, 2.000 TDI, 150 cavalli, euro 6. È un settembre 2015, la macchina ha percorso 31.000 chilometri. È un cambio automatico DSG, navigatore. La macchina la proponiamo a 18.500 euro, IVA compresa. Settembre 2015, 31.000 chilometri. Citycar in casa Volkswagen, Volkswagen Up, 60 cavalli ASG, quindi cambio automatico, aria condizionata. È una macchina a settembre 2015 con 11.000 chilometri. La proponiamo a 8.800 euro, IVA compresa. Audi A5 Cabrio, 2.000 TDI, 177 cavalli, cambio automatico Multitronic. Nell'allestimento Top Business Plus. La macchina ha percorso 12.000 chilometri. È un 2015. Cambio automatico, navigatore interno in pelle. La proponiamo a 36.500 euro. È un 2015. Jeep Renegade, 1.6 multijet, 120 cavalli limited. La macchina è un'aziendale del febbraio 2016 con 15.000 chilometri. La macchina ha il navigatore, cerchi da 17 sensori del parcheggio. Solo, ripeto, 15.000 chilometri. La proponiamo a 23.200 euro. Termino con una bellissima Opel Mokka, 1.6 CDTI, 136 cavalli nell'allestimento Cosmo, due ruote motrici con il cambio automatico. La macchina è super accessoriata, navigatore, cerchi da 18, fare lo xeno tetto pribile. La proponiamo a 22.000 euro, IVA compresa, con solo 17.000 chilometri. Maggio 2016. Il tempo è finito. Vi invito a guardare il nostro sito www.marchiselliauto.it. Ciao!